E' arrivato il grande giorno per 10.600 studenti abruzzesi alle prese con l'esame di maturità. In mattinata si è svolta la prima prova, quella di italiano. I ragazzi sono entrati nelle aule alle 8.30 in punto, sorteggiati i brani di Quasimodo e Moravia per l'analisi del testo e poi Federico Chabot, Piero Angela e Oriana Fallaci per il testo argomentativo. Infine le opzioni del tema di attualità. Lettera aperta al ministro Bianchi sull'esame di maturità e Marco Belpoliti con elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp. I ragazzi devo dire che questa mattina erano molto emozionati. All'ingresso li abbiamo dovuti un attimo sollecitare anche per fargli capire che l'esame di maturità tutto sommato è un esame di un percorso che loro hanno già svolto. Adesso l'esame sta procedendo in maniera più tranquilla anche perché gli autori proposti sembrano abbastanza abbordabili per il loro percorso di studi. Un vortice di emozione per i ragazzi che difficilmente con il passare degli anni potranno dimenticare questa giornata. Anzie, timori e paure ma anche tanta fiducia e convinzione nei propri mezzi. Come hai vissuto la notte prima di questa giornata? Ok, allora io in realtà molto tranquilla, io non soffro tanto di ansia, dico per fortuna. C'è stata un'oretta in sonne tra le 5 e le 6 che non riuscivo più a riaddormentarmi però abbastanza tranquilla. Quello che a me preoccupa tanto è il deludere una professoressa in particolare, una professoressa che ha messo a cuore, però con questo primo tema sono stata abbastanza tranquilla. Abbiamo scelto entrambi la seconda traccia della tipologia C che trattava un po' della rapidità della società moderna e del non saper più attendere, dell'essere impazienti. Ecco, quali sono stati gli spunti di riflessione sul quale avete basato questa prova? Essendo un tema di attualità ci siamo basati molto su quella che era la nostra esperienza personale, anche quindi come richiedeva la traccia e di una sintesi di quello che era il tratto appunto che c'era stato proposto. Ecco, vi guardando un po', ampliando lo sguardo al resto di questo esame, vi sentite sicuri su tutti i fronti o c'è qualche materia che temete particolarmente? Sicuramente la seconda prova che è quella di domani, che al liceo classico sarà quella di latino e quella che preoccupa un po' di più tutti gli studenti, però si cercherà di superarla. Martina e Valentina, voi siete proprio le primissime studentesse ad uscire dopo questa prima prova, questa prima giornata degli esami di maturità. Innanzitutto, com'è andata? Penso bene, penso molto bene. Bene, mi è uscito proprio l'argomento che volevo, quindi tutto a posto. Quali sono state le tracce che avete scelto? Il 1800 è la nascita appunto del concetto della nazione in Italia, quindi con i moti rivoluzionari anche del 48. E tu? Io la traccia C2 parlava del tempo, in particolar modo dell'attesa al tempo dei giorni nostri, in cui comunque è una società che vuole tutto e subito, e quindi ho parlato molto di Seneca, che è il mio autore preferito, quindi è andata benissimo. Grazie mille.